La salvezza è un dono di Dio che chiede solo di essere accorto. Quando pensiamo di non avere fede sufficiente non occorre perdere del tempo nel colpevolizzarci o pensare erroneamente di esserne esclusi perché non siamo all'altezza o non siamo degni. Infatti nessuno è all'altezza, nessuno è degno. Solo Cristo è stato all'altezza. Lui infatti è degno di aprire i sigilli della storia come scritto nell'Apocalisse e ci ha salvati. Se ci sentiamo bisognosi domandiamo aiuto al Signore, chiediamo a Lui di sostenerci e di sorreggerci, di donarci speranza. La salvezza è per grazia, è un dono immeritato. Non serve a nulla dunque lo sforzarci di essere ottimisti, piuttosto siamo sinceri davanti al Padre Celeste. Agostino di Pona disse che il Dio che ci ha fatti senza di noi non ci salva senza di noi. La grazia e la nostra libertà di scelta dunque vanno assieme, poiché la redenzione non è soltanto Dio che ci salva ma riguarda anche noi, noi che ci lasciamo salvare da Lui, noi che riceviamo il dono della salvezza.